Ho missato il pezzo C'erano pirati, murloc e bestia di token E' un pezzo stra marginale il Kangor Secondo me andrebbe tolto Magari si inventasse qualcos'altro per i mech Qualche pezzo definitivo per i mech Che renda magari la comb full mech viable Però è anche vero che fa fare delle C'è una partita su 200 dove Kangor è forte E quella partita dove lo picchi e ti senti un fenomeno Ed è bello che ci siano queste cose qua Però proprio perché sia una su 200 forse ne avrebbe dato Ci sono pezzi in realtà peggiori di Kangor Tipo Garre, cioè Garre Praticamente su Garre c'è scritto Random pezzo 6 da comprare con Raga per fare più 6 più 6 Spone 3-4 Vale la pena frizzarlo sta roba? Secondo me io cerco token più pezzo qua Token più pezzo devo trovare avendo due roll Amalgadon è troppo forte per colpa di modulo e Murlock velenoso Secondo me con l'uscita della prossima tribe Ovvero dei cinghiali Amalgadon calerà di potenza Perché col fatto che Probabilmente all'uscita dei cinghiali I cinghiali saranno sempre presenti in lobby Così come hanno fatto con gli elemental Ma tralasciando quel periodo momentaneo Ci saranno poi 8 tribe E non 7 Quindi le probabilità che Murlock e best E non bestie robot Siano nella partita Calano Di conseguenza cala la guerrieta anche di Amalgadon in teoria Questa roba è orribile però Comunque Qualcosa devo fare Quindi faccio così Non frizzerei canaglia Non è malvagia Comunque un 4-3 è una coppia Però il frizzarla mi sembra un po' esagerato Comunque partenza abbastanza scarsa Anzi scarsissima C'è questo qui Ho trovato il mio bel capitano Quindi adesso sarà meno probabile trovarlo Vediamo ragazzi Sono debolissimo qua Canaglio più Questo più questo E' veramente terrificante come comp Me la devo gridare così secondo me Tu uno dopo fare tipo Level up Compro un altro pezzo E poi tu uno dopo Comprare 3 pezzi a 4 Spendendo lui Farebbe il top La devo un po' rischiare Perché qua sono veramente scarso Non potrebbero rimettere Junkbot a C Quello però il suo buff permanente Sarebbe Oddio Sarebbe molto forte in quel caso Visto quanto i mech Cioè con i mana E' un sacco di mech Però ci potrebbe stare Magari in realtà Non è neanche così tanto forte Forse ci hanno pensato Quanti sono 6 danni Non bene E turno dopo ragazzi Dobbiamo comprare assolutamente 2 se non 3 pezzi Però qua sono stato costretto Anche a farlo Cioè nel senso Se ci fossero stati almeno 2 pezzi Decenti L'avrei valutata Il doppio buy Però avendo fatto mozzo E Essendogli solamente questa Come pezzo buono Secondo me era Level up Prendo E me la devo un po' rischiare Prossimo turno ovviamente Dobbiamo comprare per forza 3 però Toglieranno 3 tribe Penso Sicuro che lasciano sempre 2 tribe fuori Si toglieranno 3 tribe Però il discorso è lo stesso C'è più probabilità Che Murloc E robot Stiano fuori Quindi Meno possibilità Di andare a Costruirsi La malgadone Perfetto Ok Questo è Il trade Che volevamo vedere Questo però Non era il trade Che volevamo vedere Però non si può avere tutto Patta Viene così Oh yeah Oh yeah Quindi prendo loro 2 sicuro Sicuramente E Penso Di non comprare altro Eh si compro loro Roll Altro 3-3 Non posso comprarlo Non ho il gold Quindi rollo E niente Ok Così Così E basta Speravo di trovare Un altro capitano Gignotruce Ma già Avevano trovato uno E' stato Positivo Come turno Anche perché Ho full pirate Questo sposto infinito Turno dopo Grazie a questo Credo di poter livellare Vendere il mozzo Prendere i due demoni Pure non era forte Sai che forse Ci poteva stare Perché costava 3 preciso Eh mi sai che era meglio Si si era meglio Sbagliato Avevo avuto un 7-7 Anziché un 5-5 No No Però Ci sai fare Meglio Assoldare una Recruit Che puoi farlo Eh Prendere un taunt Ma è terribile qua Prendo il 5-8 Basta Punito Perché sarebbe No Non è vero Si sarebbe Avrei avuto un pezzo migliore qua Si diciamo quello Ci sta sempre andare al 5 Qua con uomo Anche perché Non ho coppie Quindi io Devo assolutamente Andarmi a cercare un carry Da per me Questo turno Starò così E Turno dopo Spero di costruire qualcosa di decente Quindi quali sono i migliori pezzi che possiamo trovare Con sta comp che abbiamo ora Potrei anche fare un refactor totale Se trovassi tipo Fango E delle tribe giuste Perché comunque a turno 8 Stiamo ancora ampiamente in tempo per cercare Fango e Bran Posso prendere Oggar e andare full pirate Trovando Oggar Posso Cercare Mamma Bear più bestie Nino Mi sembra un gran che Quindi credo Che i pezzi migliori Che vogliamo trovare Sono dei qualsiasi pezzi A turno 5 Che carriano Che sono quindi Fango, Bran Oggar E probabilmente anche Mitrax Posso pensare di prendere Coppia Di 4-5 Lì che pompa i pirati Decente anche Si può prendere 4-3 che pompa tutti i pirati Ci posso ragionare Oppo è scarso 18 danni si piglia Non so come fa Se è così scarso Io sono Non sono forte Io sono il 5 O se ero triple Ma secondo voi Ci sta andare al 6 E magari prendo lui E' una follia Cioè faccio tipo Tier up No è troppo gridi Nel 6 dai Prendo questo E questo Roll Questo Quello l'ho preso Secondo me Questo ci sta 2-3 Devo fare il suo Nikilan Che non è malvagio Però non ho piglierei Probabilmente qua Alla furia Non ho draghi Mi piace Roll Ok Questa Mi interessa Come coppia Quindi faccio questo Compro Tengo in mano Ci serve Ci serve Una barca E una barca Più Grossa Oddio ma qua lo distruggo Uuuuh Nat che da Nat che da Tripla di Nat Non si è mai visto Incredibile E' questa roba forte Addirittura Prendo tre carte Nat che si auto Tripla Mi sa che vado al 6 Con la tripla di Nat Non ci credo I tuoi servitori Hanno davvero Dato tutto Ci serve Una barca Più grande Non ci credo Spazzatura Questo Prova Malgadone Si dai Malgadone Sempre Via questo Non prendo Mitrax Rollo Rollo Un altro Bad Nat Beh faccio questo Questo Prenderò fango Quindi allora voglio anche la bestia Voglio fare il più adapt possibile Vai Ok ha preso Non ha preso scudo Non ha preso scudo Stupidone Sono alla prima Per i buff di quest Dammi pezzi a 6 Dai dammi Oh la barca Oh la mamma Mi hanno dato due davvero Di pezzi a 6 Incredibile E l'altri due Eh va bene Dai adesso Non posso chiedere tutto Non posso avere tutto Ah direi che comunque Al master Non fa schifo Non ho lasciato Drago e bestia Raga La bestia la lasciate Il drago fa schifo Jolly Posso triplare 5-8 Ma non voglio triplare 5-8 Dai Lo sai Triplofango Quindi vendo questo Ero contro Di Questo Posso rubargli Bran Posso rubargli Il pesce Ma si dai proviamo Solo Bran Vale la pena Robaldo Beh Robaldo No Robaldo non serve Non ci credo Oddio 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 Robaldo No perché ho già quello Coiler Mexna Mexna Ho questo come demone Quindi vendo lui Shit Shit Non faccio in tempo Troppe robe da pensare No 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 Oh my god Oddio Vabbè dai Sono toni complicati Cioè Fango dorata Altra fango Altra Mexna Quindi Questo fa schifo In realtà dovevo mettere Mexna Al posto suo Selfless Va presa Via questo Allora Fango pompa Loro 3 Più Mexna Ho il demon Il pirata La bestia Prendo un'altra Mexna Non penso di prendere Un'altra barca O un altro fango Qua non prendo nulla Il ghoul magari Poteva essere valido Per Paolo Ma Lo cercherò Quando toccherà di nuovo Giocare contro Paolo Selfless Finito Chi ha vinto I lupi Buoni No I buoni Ma perché Hanno impagliato A divertire L'altro Con la tua Colpa del narratore In effetti È partito subito A palla Sai che il fuori Doppia Mexna Dispo di selfless Più Mexna Assolutamente Sì Hai vinto Hai vinto Che non c'era No O meglio La partita di prima Quanto ho fatto raga Mi ricordo più Certo vai Doppia carta Buono Buono questo Questo non buono Questo buono Ok dai Patta Ascula top Ma va bene Ho fatto secondo E devo pagare ancora La betti prima Pensa te Non prendo Argus Yeah Allora cosa cerchi È chiusa sta compa Cioè metto Una volta che metto selfless È chiusa Devo fare un'altra Magadon Devo fare Basta Argus è buono per selfless Ma non te lo metto davanti Contro di lui Direi che stiamo buoni Roll Niente Gioco selfless Se sono bloccato Se sto praticamente fermo Intanto cerco un'altra Magadon E barone qua Praticamente Questo è carino Non ho paura di nulla Sì ho sbagliato Devo frizzare Non farlo adesso Qua Non resta che pregare Buono su trade Pessimo questo Questo è buono Nat E altre due cartine Sì sì Questo va La grande Lui si salva Con questo trade finale No era comunque vivo È un bel casino qua È una comp stranissima E non so E non so che vendere Parte lei Ma Voglio davvero Vendere lei Baron Buono Baron Servirebbe Ghoul qua Due tazzoni Avendo Avendo il 23 23-33 O sto fermo E frizzo Perdo se sto fermo E frizzo Che casino Però non so se frizzo Potrebbe bastare Come non bastare Questa comp Due tazzoni Decenti Potrebbero anche prendere Visto che ho tutto Praticamente in mano Vediamo Basta Non basterà Qua o pareggio O perdo Non c'è uno scenario Dove vinciamo Questo però è andato bene Anche questo è andato bene Ho Tanto gold in mano E nulla E nulla per utilizzarlo Praticamente Non so come usarlo Sto gold Faccio un value trade Che Ci permette di pareggiare E che non c'è modulo qua Argus A sto punto Vendo fango Potrei vendere anche una mexta Ma secondo me è sbagliato Vendere mexta Specialmente contro i murloc Vendo fango E non sono solo Il mio scudo Per Argus Fango E No Assolda pure Una di queste reclute Che si fa qua Se devo forse prendere i buff Tutti i buff andavano presi magari Che la comp è Completata Una schifezza Ma è completata Guarda quanto pattume ho da vendere C'è quella tripla di Baron Che non arriverà mai E i amalgadoni Che non arrivano A questo punto cerco Qualcosa di meglio Visto che sto rollando Per il nuts Che non trovo Questo era buono Ok Gull serve Gull serve per dopo Buono che mi abbia Tradato lì Questo top 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 Quindi tutto merito tu Vorresti dire Davvero Grazie Ma non l'ho ancora ammazzato Cioè non l'ho ancora vinto Questo è un buon fight Una bella vittoria Ah ho poi morto dal bot Incredibile Com'è possibile Io quindi rigioco contro di lui Quindi Gull non mi è servito a niente Comprarlo Il problema è che lui Mi batte adesso Perché vende il 4-3 Bran Mentre io sono bloccato Devo sostituire questo qua Con una Spora È arrivata la spora Due spore Amalgadon Ok Questo se ne va Troll E trovare Veleno E scudo Due ad art Incredibili Li ha trovati Eh questa è roba forte Però sto sotto lo stesso Perché lui ha messo il Gull Contro la mia spora Cazzo È contro la mia selfless Non ci credo Merda Quindi devo togliere Devo togliere spora Merda Il problema è che ha trovato A magadona anche lui Non solo io Un'altra spora Fa merda Cosa faccio qua ragazzi Disastro Mento Lui per primo Selfless lì Tolgo sicuramente spora Anzi spora prima Poi lui secondo Tipo Disastro Spora fa schifo Ho dato town qua Quindi non posso prendere Macao Argus Argus Non posso Cioè potrei mettere Argus su spora Per non farla morire Da ghoul Ma dovrei trovare Un altro sostituto Di brown Di baron Di trovare un altro baron Un'altra selfless Ci sta un'altra selfless Un posto di spora Sì che ci sta Qua tipo Proviamo Proviamo Tra selfless È buona Infatti mi sono potenziato Un sacco Con sto positioning Sono avanti Sono avanti Questo è un ottimo trade Questo è un ottimo trade Questo va bene Anche qua È fatta È fatta Primo posto Vedi Vedi Ti prendi pure il merito Grazie amore Le gambe delle donne